Ragazze, ecco la Gluteus Machine. Non tutte hanno questa macchina, magari fondamentale per molti, ma non tutti l'hanno disponibile in sala pesa e in palestra. Quindi vi farò vedere questo esercizio a corpo libero per farvi capire il metodo allenante. Allora, per chi invece ce l'avesse, tranquilla, perché riuscirai tranquillamente a capire come eseguirla solamente guardandomi a corpo libero. Per chi ce l'ha, semplicemente mettete sempre il pianale basso, regolatelo con la rotella, diciamo, in modo da avere questa gamba che non lavora, non completamente dritta, bensì leggermente piegata. Questo è molto importante. Vi mettete in posizione comoda sopra il pianale e tutta la forza deve essere esercitata qui. Qui avrete il secondo rullo, ok? Quindi, questo è il movimento idealmente da fare, no? Sembra facile. Quello che voi dovete capire è una cosa sola. Avete una prima fase di spinta e una seconda fase di ritorno. Quello che non voglio vedere è il cambiamento di angolo di lavoro da parte del polpaccio e del fumorale nelle due fasi. Spesso vedo fare questo. Non è che non vada bene. Semplicemente va andata a togliere tensione a quello che è il gluteo. Quindi, cercate di utilizzare questo tipo di movimento. Quando voi spingete, come un cavallo, nella parte della pianta del piede, deve proprio dare una spinta piatta. Quindi, in questo modo, ok? Qui avete il rullo, qui spingete. Quando tornate, quasi andare a contrarre gli addominali per avvicinare il ginocchio verso di voi. Questo è il movimento corretto. Quindi non si ferma qua, bensì si ferma qua. Cercate, ecco, questo è molto difficile da fare, quindi non aumentate troppo il carico dell'esercizio, perché un altro errore classico è in fase di spinta a ruotare il corpo. Questo non va bene perché va a togliere tensione a quello che è il gluteo. Quindi, non facciamo questo quando non ce la facciamo più, bensì rimaniamo completamente paralleli sia alla macchina sia al pavimento. Questo. Qui andremo a dare molta più tensione al gluteo. Grazie. Grazie. Grazie.